Nel mio modo di fare alpinismo sono sempre stato guidato dall'istinto. Il fatto di lasciarsi ispirare dalla bellezza di alcuni posti e di certe montagne. In Patagonia ho sentito come una scintilla. Vedi una montagna, vedi anche un modo di raggiungere questa montagna, vi dà la tua mente e passa alla realtà. Vibran condivide i principi su cui si basa il mio alpinismo, il rispetto per la natura e la volontà di innovare, di esplorare, di guardare sempre un po' più in là. Vorrei lasciare delle vie che non siano una bandierina, una serie di chiodi. Vorrei più lasciare idee, segni intangibili di passaggio.